protezione civile vigili del fuoco sotto grande sforzo da più di 72 ore in frio di venezia giulia a causa di un maltempo persistente e diffuso in diversi comuni una nuova allerta meteo gialla annunciava oltretutto pioggi intense temporali per tutto venerdì con avviso di criticità idrogeologica massima attenzione sulla fascia orientale sulla zona montana ma anche verso sera su pianuro dinese isontino e costa mentre lungo il litorale soffre un vento da sud a tratti sostenuto che non consente di escludere mareggiate o acqua alta le piogge sparse talvolta abbondanti con qualche rovescio temporalesco potrebbero prolungarsi sulla fascia orientale fino a sabato notte mentre nel resto della regione il miglioramento dovrebbe iniziare già dal pomeriggio sempre di sabato i maggiori disagi si sono registrate da quileia con strade allagate dalle forti precipitazioni che hanno costretto la squadra comunale della protezione civile a intervenire per la messa in sicurezza volontari e agenti della polizia locale hanno collaborato per ripristinare la viabilità bel vedere oltre che al capoluogo a cui lei altri allegamenti a udine ed è un disagio che si ripete nuovamente in galleria a fagagna strade allagate automobilisti in transito sorpresi da una violenta grandinata con ripercussioni sulla circolazione e la situazione non è certo diversa nella venezia giulia a trieste molteplici situazioni di emergenza gestite dai vigili del fuoco e polizia municipale con decine di tombini saltati al cavalca via di barcola una strozzatura su viale miramare sovrastata dalla linea ferroviaria è arrivata un'imponente massa d'acqua da una piccola strada secondaria tre auto sono rimaste impantanate ma i vigili del fuoco hanno ricevuto in totale decine di telefonate